Matteo Orfini a Caserta per presentare il suo libro, si parla di 20 anni di storia della politica ma in particolare del PC, poi PDS, poi DS e oggi PD. Un'analisi complessiva, che giudizio esce dal libro? Beh, luci ed ombre, tante cose buone sono state fatte ma i problemi che oggi all'Italia sono anche il frutto degli errori o delle cose non fatte nei 20 anni di governo, in quella parte di questi 20 anni in cui è governato il centro-sinistra, quindi anche un'analisi dura nei confronti di quello che non abbiamo fatto perché c'è bisogno di farla per ripartire e per capire cosa serve oggi. Una posizione molto critica rispetto a questa evoluzione di 20 anni, cosa serve oggi? Beh, serve un po' più di sinistra, c'è bisogno di più attenzione alle questioni sociali, alle parte più debole del paese che in questo momento soffre la crisi e c'è bisogno di cambiare le idee che hanno governato questi 20 anni, cioè non si può pensare che tutto si risolva lasciando libero il mercato di agire perché questo aiuta solo chi ha di più. Questi 20 anni la ricchezza si è spostata dall'alto al basso della piramide sociale e dobbiamo cercare di lavorare su uno spostamento che vada dall'alto invece al basso, non dal basso all'alto come è successo fin qui. Fatto sa che anche nell'ultima assemblea del PD sono emerse posizioni molto diverse anche su temi importanti, questo all'esterno non fa bene al partito? No, 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 naturalmente non fa bene, certo siamo un partito democratico e quindi un po' di discussione però è normale, l'importante è che rimanga poi quella tensione unitaria. Io credo che noi abbiamo deciso all'ultima assemblea delle cose importanti, abbiamo deciso di accettare il riconoscimento delle unioni civili anche per gli omosessuali, cosa che il PD non aveva mai fatto. Certo si poteva fare di più, forse faremo di più ma è un primo punto importante. Con la nuova decisa in campo di Berlusconi resta ancora valida e una candidatura ottimale e vincente quella di Bersani? Sì, credo di sì, comunque faremo le primarie, io alle primarie sosterrò Bersani ma insomma poi chi lo vorrà sfidare lo sfiderà e vincerà il migliore.